Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Carocci dal titolo Profilo storico della lingua italiana di Rita Librandi che abbiamo il grande piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante volume. Prego professoressa, a lei. Grazie, buongiorno e grazie per il vostro interesse nei confronti del mio libro. Si tratta in realtà di una storia della lingua italiana che ovviamente mi ha occupato molto del mio tempo e per la quale ho voluto scegliere un taglio diverso da quello tradizionale che di solito scorre gli avvenimenti, le vicende legate alla nostra storia linguistica secolo per secolo. Io ho pensato invece di ovviamente procedere sempre lungo la traiettoria cronologica perché sarebbe impossibile fare diversamente però privilegiando i grandi momenti, le grandi svolte della nostra storia linguistica, ciò che in sostanza ha consentito all'italiano che oggi tutti parliamo e adoperiamo per diversi usi comunicativi e di diventare appunto la lingua di tutti partendo da una situazione assai particolare nella nostra penisola divisa fra stati diversi sul piano storico-politico ma anche tra lingue diverse che lingue che oggi denominiamo dialetti anche se sono lingue a tutti gli effetti. Dunque dicevamo grandi svolte per cui forse il rischio che si può correre guardando in questo modo alla storia linguistica italiana è quella di una visione finalistica, cioè far pensare che appunto non tanto dagli esordi, dalle prime testimonianze del volgare ma a partire dai grandi del 300, dalle tre corone e poi ancora di più dalla svolta del 500 determinata da Pietro Bembo, favorita soprattutto da Pietro Bembo, ecco che ci sia stato un filone continuo che quindi tutto abbia avuto quasi un esito già scritto, no? Comunque inevitabile, ecco naturalmente questo non è vero e forse è stata un'interpretazione un po' forzata data soprattutto nell'ottocento, dopo il risorgimento, dopo l'unità d'Italia. Non è così, c'è stata sicuramente un'altra fila, un percorso che ha favorito come dicevamo questo sbocco, questa scelta del fiorentino letterario come base della nostra lingua unitaria, però è anche vero che ci sono state diverse, diversi rivoli paralleli, che le altre lingue hanno avuto una loro vitalità e che rimangono talvolta nell'ombra appunto rispetto al percorso generale. Bene, fatta questa premessa, che dire, si parte naturalmente dalla situazione del latino soprattutto immediatamente prima e immediatamente dopo la caduta dell'impero romano, cercando di evitare anche in questo caso quella missione un po' schematica che un tempo parlava di latino volgare, oggi un'espressione che non si usa neanche più, quasi vuota di significato. Oggi si preferisce dire latino parlato, latino di uso vivo, perché è chiaro che in tutti i territori dell'impero romano non si parlava certamente un solo latino, il latino dei grandi classici, il latino dell'età augustea, dei grandi autori, Virgilio, Orazio, Cicerone, non era certamente la lingua di uso comune, ma anche questa lingua parlata di uso comune aveva diversità notevoli da un territorio all'altro, da una classe sociale all'alte. La cosa sicura è che i nostri volgari hanno una derivazione appunto da questo latino di uso vivo e non dal latino classico e letterario e dopo aver cercato di delineare anche in maniera un po' più strettamente linguistica, se vogliamo dire così, i fenomeni, i passaggi che hanno caratterizzato la trasformazione dal latino al volgare, ci si concentra su quei fattori che hanno stimolato, che hanno dato quasi una spinta progressiva all'affermazione del volgare nella scrittura, a partire grossomodo dal tredicesimo secolo. E queste spinte sono state ovviamente intanto la lingua letteraria e quindi soprattutto la poesia, come sappiamo, di argomento amoroso, perché ancora nel basso medioevo la cultura latina medievale aveva una sorta di gerarchia dei saperi, quindi al punto più alto trovavamo la teologia, la filosofia e nel punto più basso diciamo quello che oggi chiameremmo l'intrattenimento, quindi la poesia di argomento amoroso ed è solo in quei piani bassi che è consentito che le maglie un po' si allargano ed è consentito all'ingresso del volgare, anche perché come dirà Boccaccio ci si rivolge a donne, ignare di latino e quindi si favorisce anche la loro comprensione con i versi in volgare. E da qui, adesso non mi posso dilungare rifare tutta la storia, ma naturalmente abbiamo le testimonianze della scuola poetica siciliana su cui oggi abbiamo anche molte novità scoperte di altri testi, testi prodotti nell'Italia settentrionale, ma insomma non mi soffermo sui particolari. E poi ci sono le cosiddette scritture pratiche, ecco, le esigenze portate dai commerci, dai mercanti che hanno necessità di imparare a leggere e scrivere, ma non necessariamente di scrivere in latino per le loro finalità economiche e questo porta alla produzione di moltissimi testi in volgare dove in particolar modo a Firenze e in Toscana. Non sappiamo bene che Firenze è il luogo dove è nata insomma la banca e il commercio, non proprio nei termini in cui lo conosciamo oggi, però certamente da lì ha un po' a origine ogni cosa. E non sono poi da sottovalutare anche le attività dei notai, la cosiddetta arts dictandi, cioè le regole della retorica che i notai apprendevano nelle università, soprattutto presso l'università di Bologna, che erano utili a comporre dei testi scritti, soprattutto delle pistole, delle lettere. Non tutti sapevano leggere e scrivere e quindi esistevano quasi dei, come dire, professionisti della scrittura che scrivevano seguendo determinate regole, seguendo determinati schemi appresi appunto soprattutto nelle università attraverso le scuole oppure gli studi di arts dictandi. E queste regole, questa scrittura così regolamentata diventa anche un modo per, semplificando molto diciamo, un modo anche per produrre una scrittura letteraria. I poeti della scuola di Federico II sono soprattutto notai, insomma persone che si dedicano, che sono specialisti nella giurisprudenza, nelle materie del diritto. Ultima, importante, comunque, un ultimo importante fattore nell'affermazione progressiva, sempre più dirompente del volgare nella scrittura, la prosa narrativa, la prosa di breve lunghezza, che comincia già dai suoi sordi a presentarsi come scrittura narrativa e novelle, con il novellino, con le prime testimonianze appunto di una prosa letteraria, anche questa destinata all'intrattenimento. Ovviamente, altro secondo grande momento, l'abbiamo già anticipato, le tre corone, Dante, Petrarca e Boccaccio. Dante, vabbè, insomma una pietra miliare, non a caso poi definita da Bruno Migliorini, il primo nostro grande storico della lingua, definito il padre della lingua italiana, perché il primo a elaborare una teoria linguistica, il primo a elaborare una riflessione sulla nostra lingua e il primo soprattutto a trattare in volgare di qualsiasi argomento. Abbiamo detto poc'anzi, no, la gerarchia dei saperi, solo i piani bassi erano concessi al volgare, mentre con Dante, con la commedia, insomma, tutti gli argomenti dalla teologia alle passioni umane, al diritto, alle scienze, tutto viene aperto per la prima volta al volgare. Tutto ciò che era stato, per esempio, sperimentato, anche per ciò che riguarda la lingua della scienza, la lingua della filosofia e della natura, che era stato sperimentato attraverso i volgarizzamenti, no, tra il II e il 300, cioè le traduzioni dal latino, che avevano in qualche modo aiutato a forgiare il lessico, a forgiare la nostra lingua, ecco, nella commedia di Dante trovano quasi una sistemazione armonica, no? E Petrarca e Boccaccio naturalmente vanno in direzioni diverse, ma arrivando comunque a elaborare una lingua letteraria innovativa che si modella anche sul latino, ma che porta le possibilità del volgare alle sue massime conseguenze e questo non sarà privo, appunto, di conseguenze, no? Perché Boccaccio e Petrarca sono modelli che saranno imitati nell'Europa del Rinascimento, nell'Europa del 4 e del 500, un po' in tutti i paesi europei, è una superiorità letteraria, insomma, ampiamente riconosciuta. Per cui, quando, ecco, cerco adesso di essere ancora più sintetica, quando dopo il quindicesimo secolo, quando finita la fase dell'umanesimo latino, si cerca di cogliere i frutti dell'umanesimo latino per migliorare una visione del volgare, cioè, come dire, in qualche modo proiettando la riflessione sul latino sul volgare e si cercano i modelli classici, no? Così come per il latino i modelli classici erano diventati, appunto, Cicerone, Virgilio, e si cercano i modelli classici anche per il volgare, per dare una misura, per dare una norma, no? Al volgare. E questo comporta una serie di discussioni intorno alla lingua, tra le quali quella vincente sarà quella di Pietro Bembo, che mostrerà agli autori del suo tempo il modo di comporre scrittura letteraria imitando, rifacendosi ai due dei tre grandi, soltanto Petrarca e Boccaccio. Questi i modelli cui rifarsi, escludendo Dante che, secondo Bembo, aveva accolto di tutto nella commedia, l'abbiamo appieno detto, no? La grandezza della commedia è anche questo, è aver aperto, avvolgare ogni possibile argomento, ma anche aver introdotto la lingua viva, la lingua della quotidianità, la lingua delle passioni. E questo, alla misura di Bembo, il classicista Bembo, non poteva essere, non poteva costituire un modello stabile. Per cui è vero che ci saranno anche altre posizioni, ma adesso, dovendo sintetizzare, diciamo che in fondo la soluzione prospettata da Bembo era, da certi punti di vista, la più semplice. Per chi non era di madrelingua fiorentina o toscana, avere un modello di riferimento, dovendo studiare sui libri questa lingua per poter scrivere, è chiaro che avere un modello ben chiaro, insomma, diventava più semplice, no? Da eseguire. Dante però si recupera, Dante viene recuperato, soprattutto il lessico dantesco, attraverso che cosa? Attraverso soprattutto l'intervento e l'opera dell'Accademia della Crusca e del vocabolario della Crusca, la prima edizione stampata nel 1612, che accoglie anche le parole di Dante, che attraverso il vocabolario, di cui tanti hanno detto male, no? Ci sono state discussioni di ogni tipo, però diventa uno strumento essenziale, importante. E naturalmente, come abbastanza noto, le discussioni, le polemiche intorno al vocabolario della Crusca sono state tante, però era uno strumento, sarebbe diventato nel corso dei secoli, uno strumento indispensabile, ancora una volta, per chi non essendo di madrelingua, fiorentina e toscana, aveva necessità di scrivere, di consultare grammatiche e vocabolari, primo tra tutti, ovviamente, il vocabolario della Crusca, che riesce in questo modo a far recuperare Dante e le sue parole. Ecco, questo è il momento della svolta. Non mi soffermo troppo a lungo sul resto della vicenda. Diciamo che ci sono stati altri nuclei, e altre svolte importanti, che però bisogna sempre ricordare, hanno visto convivere insieme con questo percorso, con questa lingua letteraria che ha costituito il filone che porterà poi alla costituzione appunto del nostro italiano, però c'è stato anche, come dire, un italiano sotterraneo, se vogliamo parlare così, cioè un italiano scritto, per esempio, dalle persone che non studiavano, che non avevano la possibilità di consultare testi, strumenti, di studiare la letteratura, ma che avevano imparato a leggere e a scrivere e quindi scrivevano in un italiano molto stentato, molto lontano dalla norma letteraria, tuttavia testimoniando il fatto che in fondo questo italiano, così come era stato codificato a partire dal Cinquecento, non sarebbe rimasto così ignoto, così sconosciuto. trovava in qualche modo la possibilità di arrivare anche a coloro che non appartenevano a una classe elevata, che non avevano compiuto alti studi. E come ci arrivava? Beh, attraverso diverse vie. La chiesa, la predicazione, la catechesi, il catechismo, che si serviva un po' del dialetto, un po' dell'italiano, e comunque riusciva a far arrivare qualcosa. E poi naturalmente altri testi, come dire, intermedi, testi che non erano trattatistica, che non erano letteratura, ma che, come sempre, per la comunicazione privata, gli epistolari, per comunicare attraverso lo scritto altre questioni, altre situazioni, come dire, ricorrevano, il modello era sempre quello, ma insomma era un italiano non proprio aderente a quello della tradizione letteraria. Tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento naturalmente cambiano molte cose, le idee dell'illuminismo, l'influenza del francese, che sarà particolarmente preponderante per l'italiano, l'immissione dei francesismi nell'italiano nel Settecento è veramente notevole, forse anche superiore a quella di cui tutti oggi si lamentano, cioè della penetrazione degli anglismi, anche se noi non ce ne rendiamo conto, perché è evidente che le parole del francese, trattandosi in una lingua neolatina, si sono molto meglio amalgamate all'italiano, e quindi non percepiamo il fatto che molti termini sono arrivati appunto nella nostra lingua attraverso il francese nel Settecento. E poi, vabbè, con naturalmente tutto ciò che precede e segue l'Unità d'Italia, in particolar modo il ruolo avuto da Alessandro Manzoni, che viene, la cui, come dire, innovatività sul piano linguistico, la sua proposta di una lingua che debba svecchiare la lingua di tradizione letteraria, innovare, avvicinandosi all'uso vivo. Ecco, questa sua forte modernità, innovatività, viene spesso sottovalutata, ma invece la riforma linguistica manzoniana ha avuto una parte particolarmente importante. E le vicende, che poi naturalmente si sosseguono, incalzandosi l'una con l'altra, la scuola, la diffusione della stampa quotidiana, l'aumento dell'alfabetizzazione, insomma, poco per volta una serie di fattori storici, sociali, politici, hanno avuto un ruolo anche più rilevante da un certo punto di vista, per fortuna, di quello che ha avuto tutto avere per molti secoli la tradizione letteraria. Ecco, ho sintetizzato molto sulla seconda parte di questo volume, sperando però di avere attirato la vostra curiosità e quindi il desiderio di andare a capire come va a finire e come nei particolari si svolge la storia della nostra lingua, che è una storia affascinante, è una storia avvincente e conoscerla aiuterebbe gli italiani ad avere anche verso la propria lingua un affetto maggiore, l'affetto che in fondo lei è dovuto. Ecco, grazie. Condivido in pieno questa sua conclusione e quindi ricordo a tutti i nostri videoascoltatori il titolo di questo bellissimo saggio che è Profilo storico della lingua italiana, appena pubblicato da Carocci, di Rita Librandi che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite che io ringrazio tantissimo e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove troverete oltre a questa videoregistrazione anche tutte quelle realizzate in precedenza. Grazie ancora e a presto. A voi, arrivederci. a presto. Grazie a tutti.